Amici sportivi a tutti voi un cordiale saluto e ben ritrovati. Apriamo con il calcio e con la vicenda sempre più intricata dell'allenatore Giorgio Gorgone alla Lucchese. Dunque la vicenda Gorgone, resta alla Lucchese oppure no, ancora non si sblocca. Con due righe l'ufficio stampa rosso-nero intorno alle 18.30 di martedì ha annunciato che sarà tutto comunicato nel dettaglio mercoledì in una conferenza stampa che il direttore sportivo ferrarese terrà nella sala stampa dello stadio Porta Elisa. È stata una giornata febbrile con continui contatti tra l'allenatore e l'administratore delegato della Lucchese Reilo Faso. Probabilmente una decisione ancora non è stata presa, forse servirà un'altra notte di riflessione. A quanto ci risulta Gorgone potrebbe anche recedere dal suo intento di rassegnare le dimissioni dall'allenatore della Lucchese ma avrebbe chiesto garanzie tecniche. La società sarà in grado di fornirle? E soprattutto sono vere le voci che vogliono la Lucchese in vendita ad una cordata italo-danese? Ne sapremo di più nella prossima puntata, ovvero mercoledì alle 14 in sala stampa con il direttore sportivo ferrarese. Intanto la squadra martedì pomeriggio ha ripreso la preparazione in vista del Monday Night di lunedì prossimo al Porta Elisa con il Ponte d'Era. L'allenamento è stato diretto dal vice di Gorgone Emiliano Testini. Insomma, la telenovela continua. Vediamo anche l'arbitro della prossima partita della Lucchese che giocherà lunedì sera nel Monday Night alle 20.30. Lucchese-Ponte d'Era sarà diretta dalla signora Maria Marotta di Sapri, assistenti Pio Carlo Catanio di Foggia e Andrea Cecchi di Roma 1. Vediamo la terna. Scendiamo in eccellenza perché dopo quelle di Castelnuovo e Viareggio è saltata anche la panchina della Real Forte Querceta. Nel campionato di eccellenza è costata cara la sconfitta a Cenaglia per 2-1 della Real Forte Querceta l'allenatore Andrea Cipolli che la società ha esonerato. Alla suo posto, ringraziandolo ovviamente per il lavoro svolto con i migliori auspici per il proseguo di carriera, torna Francesco Buglio che sarà coadiuvato dal confermato staff composto dal preparatore attrezico Maurizio Bacchi, dal preparatore dei portieri Luca Sclafani e dal massaggiatore Guido Zeni. Le dichiarazioni immediate di Buglio sono quelle di un ritorno pieno di valori, con una scelta verso una società che nei miei confronti è sempre stata attenta e rispettosa. Mi sento in debito con quest'ambiente e desidero restituire quanto l'anno scorso non sono riuscito a dare. Sono contentissimo, felice di iniziare una nuova avventura e spero di contribuire a fare e a dare delle soddisfazioni. Ricordiamo che l'anno scorso Francesco Buglio subentrò nel campionato di Serie D nel mese di ottobre a Nicola Sena e nonostante un bel girone di ritorno non riuscì a salvare la squadra anche con un pizzico di sfortuna. Nel dare il bentornato a Mr. Buglio la società augura allo staff tecnico un buon lavoro. Il debutto per il neotecnico Viareggino sulla panchina del Real Forte Quercete è domenica al Necchi Balloni contro il Certaldo. Passiamo al tennis, la firma di Jasmine Paolini nelle fortune della Nazionale Italiana di Tennis. Battendo in due set, 7-5, 7-5, il doppio formato da Katargina Kawa e Iga Svjontek, l'Italia ha superato per 2-1 la Polonia e cede alla finale della Billie Jean King Cup. La 28enne campionessa lucchese si era battuta benissimo anche in singolare, cedendo solo al terzo setta l'ex numero uno Svjontek. Il primo punto lo aveva portato Lucia Bronzetti, azzurre alla settima finale nella prestigiosa competizione che poi è la Coppa Davis al femminile. Appena è il tempo di godersi la bellissima vittoria di Empoli che il campionato in calza al Basketball Club Luca tornerà in campo mercoledì sera alle 21 al Paratagliate contro il Costone Siena, altra compagine di livello che al pari di quella lucchese dell'Etrusca a San Mignato occupa il secondo posto a quota 12 a due lunghezze dalla capolista Us Empoli. Si preannuncia una gara affascinante, magari anche di ottimi contenuti tecnici. La squadra di Coccio Livieri farà leva su velocità e ritmo, che sono poi le sue qualità migliori, mentre quella senese, la terza che Barsanti e compagni affrontano dopo Virtus e Mensana, è compagine di esperienze e di grande forza fisica. Ci sono in palio due punti pesanti in una sorta di sfida da fuori i secondi. Sempre per il basket, però la Serie C femminile, terza vittoria consecutiva per il basket femminile Porcari. La squadra di Salvioni ha battuto 54 a 41 la pallacanestro femminile Pisa, 22 punti di Viola Bartoli. Male le altre formazioni nostrane della Serie C. Il Città di Capannori battuto in casa dal Rosa Prato. Identica sorte è toccata la pallacanestro femminile Viareggio, travolta a Castelfiorentino. Ottima prova del lucchese Nicola Parenti ad Acquitermi, in occasione della Coppa Piemonte di Ciclocross. L'atleta lucchese si è piazzato al secondo posto, alle spalle, si fa per dire, come vediamo nella foto, del compagno di squadra Filippo Cecchi. Arrivo in parata dei due corridori, entrambi della Bike Academy Marchini Costruzioni. Domenica prossima Parenti sarà impegnata ad Uliveto Terme, in palio la maglia di campione toscano. Siamo all'Atletica, al Podismo, il Parco Alpi Apuane di Graziano Poli, e a campione toscano per il settimo anno consecutivo. In una domenica tipicamente autunnale, Sesto Fiorentino ha ospitato per il secondo anno consecutivo la prova valevole come campionato regionale master assoluto dei 10 chilometri su strada. Il gruppo podistico Parco Alpi Apuane del presidente Graziano Poli, dopo il successo dello scorso anno, ha centrato il settimo titolo consecutivo della specialità nella categoria maschile e con grande sorpresa ha ottenuto un ottimo argento anche con la squadra femminile. In una classifica, che vede il team bianco-verde primo con 1.125 punti, davanti all'Orecchiella Garfagnana è al sempre di corsa, mentre nel femminile il trionfo è stato dell'Orecchiella Garfagnana, che ha preceduto le ragazze Apuane e l'Atletica Maranto. Eccellenti i primi posti nella categoria master 40 e master 65 di Alberto Giannoni e Luciano Bianchi e in quella master femminile 35 di Marta Micchi, mentre centrano il podio Carlo Pogliani, Andrea Nannizzi, Andrea Marsili, Marino Mim, Enrico Manfredini, Roxana Ghirliano, Barbara Casaioli, Giada Battantuono e Fabrizio Santi, giusto ricordarli tutti. Sono stati 69 punteggi utili a questo risultato storico della squadra, che dopo il trionfo nel crossmaster di Lucca del febbraio scorso va a giungere in una ricca bacheca questo altro titolo regionale. A settimo torinese e campionati italiani di taekwondo siamo alle arti marziali, tre protagonisti, gli atleti del Black Mamba di Lucca e Capannori, che hanno ottenuto risultati straordinari, confermando l'eccellenza della scuola diretta dal maestro Francesco Palladino. In particolare Ilaria Raboni, la vediamo in questa foto, ha scritto una pagina memorabile, la cintura nera della Black Mamba è diventata campionessa italiana nella nuova specialità prova di potenza nella categoria femminile Under 60. E siamo all'Hockey su pista con la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia di A2 della Rotellistica Camaiore. Per la Coppa Italia di Serie A2 di hockey su pista, vittoria senza mezze misure per la Rotellistica Camaiore, che tra le mura amiche del Pardini Sport Center ha vinto 5-1 contro il Prato e conserva la vetta del girone C. Mai in discussione il risultato. La Rotellistica si porta avanti 4-0 nella prima mezz'ora di gioco e dopo il gol della bandiera ospite chiudono i giochi con Niccolò Mattugini pochi secondi dopo. Ben più combattuto il derby tra Pumas e SPV Viareggio, che sulla pista del palestrone Dorando Pieri Alvarignano hanno regalato spettacolo spartendosi infine la posta in palio. Un duello ad alta tensione con l'iniziale fuga dell'SPV trainata dalla doppietta di Capitan Poletti, che è stata riacciuffata poi da Mora e Olivieri per la Pumas, ma il pari favorisce solo la fuga in avanti della Rotellistica Camaiore, davanti a un pubblico che si è divertito. Nel posticipo del campionato di Serie 1 il Bassano di Alessandro Bertonucci ha superato il Montebello 4-3 e sale al quinto posto in classifica. E con l'hockey su pista si chiude anche la pagina sportiva del TG Noi, linea alla regia e poi gli altri spazi dedicati all'informazione.